Nei giorni scorsi, Ida Platano si è mostrata molto delusa dai suoi corteggiatori, lamentando il fatto di non sentirsi corteggiata e desiderata. Una mancanza che la stava portando ad interrompere quasi il suo percorso a uomini e donne, lasciando il trono. Poi grazie a Maria la donna ha cambiato idea e Mario e Pierpaolo, captando la richiesta, si sono dati da fare. Entrambi, come abbiamo visto nell'ultima puntata, le hanno fatto una sorpresa per il suo compleanno, ma quello che ha dato davvero dimostrazione di un forte interesse è stato il DJ napoletano, presentandosi a Brescia sia la sera che la mattina seguente, nel suo negozio. Nonostante la felicità di Ida, ecco che è arrivata la stoccata di Tina, che non ha nascosto come sempre il suo pensiero. Quanto tempo ci avrai rimesso? Mamma mia che frasona! Quest'ultimo le ha poi regalato un anello. Pierpaolo invece le ha regalato un bracciale in argento. Alla fine Tina, dopo aver detto la sua, sui due corteggiatori della tronista, ha voluto dare anche un avvertimento alla donna, dicendo di fare la scelta giusta perché adesso non può permettersi di sbagliare. Tu devi riflettere bene, tu non ti puoi permettere per l'ennesima volta di uscire da questo studio con la persona sbagliata?